...i vostri centri culturali, strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, oppure altri tipi di strutture di assistenza residenziale, oppure non residenziale, oppure servizi di asilinido e assistenza di urna per minori, oppure più facilmente un'attività di ludoteca per intrattenimento dei bambini, che sono attività, quindi che in questo periodo c'è il GAL del Barsento, cioè il Comuni in cui voi siete residenti, oppure anche erboristerie, commercio a dettaglio di prodotti artigiani, oppure le torte, dolciumi, confetteria, tutto ciò che rientra nel commercio, non prettamente piccole attività. Io ho visto che c'era la parte dei servizi più sociali, vedete anche attività sportive di intrattenimento e divertimento, ieri stava la ragazza che doveva aprire il centro di musicoterapia, mi sembrava attività di intrattenimento e divertimento, anche perché queste sono delle macro voci, poi maessa a voi la vostra idea, se rientra qualcosa nella ludoteca, poi dalla ludoteca, oltre alla ludoteca potete fare altre attività, oppure in un centro di intrattenimento e di divertimento, è una macro classe, non è molto specifica, e quindi è possibile ricomprendere un po' più di attività, rispetto a quelle di assistenza per i disabili, quindi in questo senso. Visto che questo è un bando ancora operativo, nel senso che fino a fine aprile è un bando aperto, perché no? Nel senso che se qualcuno di voi o conoscete qualcuno che ha in mente di partecipare, o comunque ha delle idee per qualche attività commerciale, come vi dicevo prima, è la misura 321, che è aperta fino a fine aprile, e cerca di finanziare l'artigianato tipico basato su processi di lavorazione del mondo rurale, quindi abbiamo visto le attività di sughero, artigianato, commercio esclusivamente di prodotti tradizionali tipici, oppure, nel vostro caso, servizi alla popolazione locale per la prima infanzia e per gli anziani. Quindi, diciamo, qua sono tutti i vari riferimenti, la cosa importante, diciamo, è considerare i comuni che vi rientrano. Quindi, l'azione 1, l'azione 2 e l'azione 3, ad esempio, centri per la popolazione locale, per la prima infanzia e gli anziani, creazioni di lugoteghe, babysitting, centri ricreativi per gli anziani. Poi voi, nell'allegato 3, che è sempre unito al bando, vi andate a vedere, per l'allegato 3, quali sono le azioni, per l'allegato 1, quali sono le azioni. Io non dico, forse, per voi, però se conoscete qualcuno, visto che a giorno d'oggi, diciamo, vi è proprio la difficoltà. I comuni di riferimento sono quello di Alberobello, Castellano, Gioia, Noci, Putignano, San Michele e Turi. Questo perché questo è il gal del Barsento, però ci sono poi anche altri gal che finanziano altri comuni. a seconda, dovete vedere il vostro comune, in che cosa è ricompreso. Il finanziamento copre il 50%, quindi un budget massimo di 50.000 euro. Quindi questa è la localizzazione dell'intervento in quei comuni. I soggetti beneficiari sono piccole imprese, cioè infatti parlano di imprese che occupano meno di 10 persone, e quindi a voglia, e un fatturato inferiore a 2 milioni di euro. Quindi penso che il 100% delle imprese possono, almeno nelle vostre realtà, possono rientrarvi. Questa è una domanda che va presentata tramite la GEA. Quindi se voi volete accedervi, vi dovete creare una identificazione presso la GEA, che è l'ente finanziatore che ha sede a Roma. Quindi non potete direttamente voi presentare la domanda, ma mi dovete affidare a delle persone che hanno la qualifica, hanno la password, diciamo, per accedere al portale, cioè i consulenti. In questo modo, quando voi vi rivolgete, vedete anche qua, lo dice, un consulente tecnico che è incaricato di fare l'elaborato tecnico. Cioè, il progetto lo pensate voi, loro vi aprono la vostra posizione, perché vi danno anche poi una password per accedere al sito, poi siete riconosciuti come soggetto che vuole partecipare al finanziamento. E occorre quindi il fascicolo aziendale che viene rilasciato dal SIEN, cioè quando voi vi affidate a questo consulente, e un certificato di posta certificata. Quindi questo ormai, anche poste italiane, dà la posta certificata gratuita per le persone non partita IVA. La posta è gratuita, quindi basta di chiederla, e a valenza di legge. Quindi anche a volte non si sa e si rivolge, diciamo, a altre situazioni. E quindi il consulente poi compilerà i vari modelli, a seconda di quello a cui noi vogliamo partecipare. e le varie, diciamo, formalità a cui dobbiamo presentare la domanda, a che cosa dobbiamo scrivere. La cosa, diciamo, che a noi può più... Questi sono bandi che vengono aperti nel momento in cui hanno la disponibilità finanziaria, durano un mesetto e li chiudono. Però poi, nel momento in cui il GAL ha altri soldi, quindi a distanza anche di uno o due mesi, li riaprono. Quindi, infatti, vengono definiti stop and go, nel senso che partono, poi lo chiudono, però poi sono sempre gli stessi. Quindi se voi andate un po' sui siti del GAL, e sono finanziamenti di piccole entità, che però per dei giovani o persone che hanno comunque già qualche attività commerciale, possono essere utili, proprio perché sono più facilmente, diciamo, raggiungibili rispetto a quelli troppo, diciamo, grandi. Per esempio, già ieri c'erano due persone che volevano fare l'intrattenimento dei bambini, cose... Non erano molto d'accordo a fare il finanziamento, però, diciamo, chi non ha le possibilità potrebbe anche accedervi. Quindi tutta la documentazione che poi è quella che viene allegata alla domanda. Quindi la delega del tecnico, che sarà quella che anche tu hai fatto per il tuo progetto, si delega quindi al tecnico incaricato che ci deve fare la domanda, la presentazione di tutto l'elaborato tecnico. Quindi tu, titolare della tua azienda, perché chi fa questo bando deve avere una partita IVA. La partita IVA la potete anche richiedere prima di fare la domanda, perché non è importante che l'azienda sia già operativa da tanto tempo, che sia inattivo. Occorre essere titolari di partita IVA. Quindi io, nel senso titolare di partita IVA, incarica chi? Il soggetto che ha l'abilità di poter accedere al Sian, quindi ha questa autorizzazione. Infatti delega per la compilazione e il rilascio della domanda di aiuto. Quindi è una semplice, diciamo, ovviamente bisogna sempre rilasciare il documento. Quindi questa era la delega al tecnico e poi ci sono altre due autorizzazioni in cui tu vuoi che questa domanda, siccome noi non possiamo accedervi direttamente, venga compilata dal tecnico. Quindi, diciamo, è soltanto un'attribuzione, diciamo, di responsabilità al tecnico interessato, che se sbaglia nella compilazione è sua responsabilità. Quindi se a te mancava dei documenti, non era colpa tua, era colpa sua non aver presentato la documentazione in maniera corretta. Anche perché lo doveva fare lui, tu non puoi accedere al portale. Quindi... Eh sì, nel frattempo scade, non ci puoi fare nulla. Te lo piangi, diciamo. E con questa invece abbiamo abilitato il professionista alla presentazione della domanda di richiarimenti. Andiamo a vedere nello specifico che cosa possiamo attivare. O comunque quali sono i documenti da presentare. Diciamo, quello che potrebbe essere importante. Vabbè, oltre al Sian è il documento di riconoscimento, questa qua potrebbe essere importante. Copia dei titoli di possesso. Cioè, se noi vogliamo fare una ludoteca o un'attività commerciale di artigianato, come abbiamo visto prima, proprietà, l'usufrutto, locazione o il comodato del locale. Da qui risulti la piena disponibilità degli immobili. Se tu vuoi fare una ludoteca e poi dimostri di non avere neanche un luogo dove poter effettuare l'attività, invece questo luogo deve essere o di tua proprietà o puoi avere l'usufrutto o hai la locazione o il comodato di uso gratuito. In qualsiasi di questi casi comunque deve essere un contratto regolarmente registrato, anche se è comodato occorre la registrazione a titolo gratuito. Come dicevo prima, in caso in cui tu prendi un locale in affitto, il contratto deve avere una durata complessiva o residua ad o almeno 8 anni. perché tu devi garantire o comunque devi avere una previsione di vita della ludoteca o dell'attività per almeno 8 anni. Quindi anche se tu hai un contratto in essere di un periodo inferiore, dovresti fare una apice al contratto di fitto in cui lo prolunghi per 8 anni. Nel caso in cui il locale che tu utilizzi è di un ente pubblico, questa clausola può essere sono ammessi anche nel caso in cui si tratti di ente pubblico, che il comodato sia un ente pubblico e che sia prevista ed espressamente approvata la clausola di rinuncia al compenso. In caso in cui dobbiamo fare delle opere edili oppure dobbiamo affettuare degli investimenti, se il locale non è di nostra proprietà, quindi noi l'abbiamo preso in fitto, poi ci accorgiamo che per fare la ludoteca abbiamo bisogno di un bagno con cose più bassi per i bambini. Bisogna che nel contratto di fitto sia specificato che le eventuali migliorie che tu fai devono essere permesse. Perché siccome tu per fare quelle migliorie utilizzi dei fondi pubblici non si potrebbe creare il caso che poi il proprietario dell'immobile non approvi queste tue modifiche e quindi tu non li potresti fare. Dovrebbe essere espressamente dichiarato che tu puoi fare effettuare investimenti di opere edili nel bene in locazione. Per quanto riguarda anche noi nel caso degli enti pubblici non lo siamo quindi andiamo avanti. Nessuno qui è ente pubblico immagino. Penso che ci siamo persi la pagina qui. Senza mouse è sempre un po' più complicato. è importante quindi considerare che hanno da quando esce il bando a quando diciamo è la scadenza solitamente è un periodo massimo di un mesetto quindi bisogna però col fatto che poi vengono ripresentati se voi lo scoprite tardi e comunque siete convinti della vostra idea preparate già tutto tanto a distanza di un mese massimo due riesce almeno in questo periodo quindi non e comunque vi consiglio sempre di andare a vedere questi siti che in questo caso è www.gal.trulli.barsalento comunque se voi mettete gal a seconda poi del vostro comune riuscite a capire se siete inseriti in qualche gal io non è che sto parlando di questi perché sono quelli un po' più piccoli come progetti per iniziare nuove attività o comunque attualmente la regione Puglia non ce ne sono attivi su altre misure diciamo come dicevamo prima il compito dell'elaborato tecnico lo deve fare il tecnico lo lasciamo stare a lui bisogna acquisire i tre preventivi di ditte in concorrenza che siano datati e sottoscritti in caso di acquisto macchinari e attrezzature o di realizzazione di impianti per l'allestimento diciamo e tutto questo deve anche essere allegato da una relazione tecnica-economica che solitamente vi fa il tecnico che ha effettuato questi preventivi nel caso in cui il programma prevede investimenti devono prevedere anche devono essere effettuati anche per studi di fattibilità per studi di ricerca analisi di mercato in qualsiasi caso come dicevamo anche ieri l'unica cosa è che in quel caso tu puoi anche scegliere il preventivo non più basso e quindi come dovrebbe imporre la regola comunitaria se dimostri che lo studio di fattibilità fatto da quello ha più competenze ha più titoli ha più curriculum e quindi la specificità dello suo studio di fattibilità ha delle caratteristiche particolari anche qui si parla come vedevamo ieri che la quota complessiva delle spese immateriali comprensiva di spese generali riguarda il 10% dell'investimento e non può essere comunque superiore al 25% quindi questi paletti vi servono quando fate le vostre stime di costo come ormai avete visto in più di un'occasione solitamente le spese generali ammontano quasi sempre il 10% del totale dell'investimento e comunque non può essere superiore al quindi in questo caso mentre in questo caso quando noi dobbiamo ristrutturare rendere a norma un ufficio un'attività commerciale se dobbiamo fare delle opere murarie o dobbiamo fare la pitturazione cioè lavori di carattere murario più tecnico non è richiesto l'uso dei tre preventivi ma occorre che le spese vengono effettuate con il capitolato di spesa con un compito metrico che stima quelli che sono per metro quadro dell'appartamento della ludoteca il costo a metro quadro se la pittura dell'opera muraria e quindi bisogna riferirsi a questi computi metrici ovviamente in questo caso se non abbiamo competenze specifiche è ovvio che bisogna aiutarsi da un geometra un ingegnere uno che se ne intende di queste cose però anche in questo caso se uno fa una ludoteca e si avvale di qualche collega che fa il progetto insieme possono farsi aiutare allora gli elaborati progettuali occorre quindi che ci siano che come tu vuoi aggiustare la sede che hai preso per fare la ludoteca per adeguarla all'attività commerciale se devi vendere quindi rispettare la normativa per un esercizio pubblico oppure se vuoi fare un'attività quindi bisogna fare presentare la piantina del locale l'eventuale documentazione per fare vedere come stava prima e come invece viene effettuata dopo in modo che bisogna dimostrare lo stato del locale e che i soldi che tu hai speso per la ristrutturazione erano necessari perché il locale non aveva il bagno adatto infatti nell'eventualità si richiedono a finanziamento opere di demolazione o ricostruzione di parti di fabbricato è necessario che gli elaborati vi è la corrispondenza tra le opere edili che noi vogliamo realizzare quindi ci sarà la relazione del tecnico e poi le dichiarazioni A e B quelle che abbiamo visto prima questa è la dichiarazione la terza dichiarazione ce ne sono tre e quindi basterà seguire che poi sono una dichiarazione su quello che avevamo detto prima sulle aiuti del de minimis questa cosa è importante perché tu con il de minimis dichiari sotto la tua responsabilità quindi penale che questa domanda che tu non hai percepito negli esercizi precedenti quindi nei due anni precedenti a quando presenti questa domanda finanziamenti pubblici per un importo superiore a 200.000 euro per evitare diciamo che hai partecipato a tutti i bandi possibili e immaginabili comunque se tu invece hai avuto un piccolo finanziamento per qualche cosa basterà scrivere quanto hai avuto chi è stato l'ente che te l'ha orogato per la realizzazione di che cosa infatti o dichiaro di non aver percepito contributi pubblici oppure di averli percepiti per nell'esercizio corrente o nei due esercizi precedenti poi ci impegniamo a fornire alla regione eventualmente qualsiasi informazione che modifica questa nostra dichiarazione e utilizzare le nostre cose bisogna quindi considerare quello che è eventualmente il regime di aiuto che ci ha permesso di avere gli altri il finanziamento precedente quindi non e poi in caso di società bisogna mentre nel caso di persone fisiche basta presentare il documento in caso di società bisognerà comunque presentare lo statuto o l'atto costitutivo lo statuto per esempio per cose di piccole associazioni anche culturali cose o avete cioè noi almeno abbiamo uno statuto l'atto costitutivo risale a 50 anni fa quindi diciamo presentiamo lo statuto in cui sono specificati gli organi anche per capire all'interno dell'associazione chi ha il potere di firmare e come è costituita se c'è un organo che delibera se c'è una presidenza una direzione qualcosa che nello statuto solitamente sta scritto che i poteri sono attribuiti al legale rappresentante in quel caso bisognerà presentare documentazione che attesti chi è il legale rappresentante voi avevate partecipato o visto comunque bandi di questo genere cioè per il gallo per attività di piccolo questi piccoli finanziamenti diciamo è acceso allora io faccio parte di lega ambiente putignano e avevamo visto insieme un bando di questi per il gallo e credo che alla fine sono un po' persa però mi sa che hanno avuto il finanziamento e loro avevano in pratica chiesto un furgoncino per andare in giro diciamo nei mercati settimanali e vendere prodotti a chilometro zero e biologici insomma un prezzo penso anche che fosse che andasse incontro alla gente ed era uno di questi progetti forse dell'anno scorso però diciamo sì che le macro aree sono più o meno le stesse poi ovviamente ci sono delle particolarità o comunque sì diciamo l'attività di vendita sul posto comunque di prodotto tipico artigianale o prodotto a chilometro zero diciamo sono state sicuramente riprese in considerazione infatti se voi considerate che qua parla di commercio di pane torte oggetti di artigianato quindi comunque di questo di questo genere bisogna considerare che mentre per le altre due azioni l'azione 1 e l'azione 2 quindi che riguardano o la vendita o industrie alimentari tessili parliamo sempre di piccole imprese quindi in massimo di 10 dipendenti o per l'allegato 2 commercio di prodotti tradizionali e tipici che abbiamo detto che non rispondono alle vostre caratteristiche per l'azione 3 quindi occorre fornire una piccola descrizione quale potrebbe essere un piccolo progetto in cui indichiamo una relazione descrittiva del servizio che noi vogliamo offrire soprattutto per quanto riguarda la prima infianza e gli anziani che sia ovviamente sottoscritta da una persona abilitata non è che tu puoi parlare dei bambini e poi hai un titolo di quindi infatti diciamo non sono probabilmente richieste ma quando il progetto sulla ludoteca viene presentato da una psicologa e una pedagoga pedagoga o da qualcuno che ha un curriculum più specifico nella valutazione del bando sicuramente queste persone saranno preferite rispetto a un laureato in giurisprudenza o in economia che vogliono aprirsi la ludoteca cioè se ci sono solo quei due bandi se poi i budget cioè la disponibilità di fondi riempie quindi diciamo c'è sempre una certa attinenza quindi bisognerà descrivere la tipologia del servizio e la coerenza rispetto al contesto in cui operiamo se ci sono già dieci ludoteche a Putignano difficilmente finanzieranno un'undicesima se tu invece dici che fai una ludoteca un po' fuori Putignano che poi prendi un pulmino che li porti nella campagna per darsi che il modello tecnico gestionale da implementare e le eventuali competenze specifiche quindi il curriculum delle persone che lavoreranno con i bambini o che lavoreranno con gli anziani arriviamo sempre ai target di beneficiari a cui dobbiamo offrire il servizio e anche dobbiamo prevedere la struttura il servizio e anche eventualmente fare una specie di piano quando saremo aperti che servizi offriremo diversi ai bambini perché questa struttura soprattutto si deve essere economicamente si deve basare sulle proprie finanze quindi mentre nella parte iniziale potremmo avere il finanziamento successivamente che servizi offriamo oltre diciamo perché nella ludoteca oltre la retta diciamo dovremmo fare delle altre attività se non siamo economicamente dipendenti diciamo vabbè dobbiamo sempre considerare la andiamo alle spese ammissibili che sono quelle che possono interessarci cioè quindi la ristrutturazione eventualmente l'adeguamento o l'ampliamento del locale che dobbiamo utilizzare eventualmente l'acquisto dei software tecnologie se vogliamo comprare un videoproiettore per far vedere i film qualche cosa che io sto prendendo in riferimento sempre la terza azione oppure eventualmente macchinare impianti e attrezzature per l'ampliamento dell'attività impianti diciamo per gli anziani potrebbero proprio i bambini non so che tipo di giocattoli è uno studio di fattibilità l'acquisto dei beni deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza di legge quindi qua non si piove l'IVA come dicevamo ieri se non recumerabile è ammissibile come costo quindi anche in questo caso bisognerà soltanto dimostrare che l'IVA per noi è un costo quindi basta mandare copia dello statuto dove ci siamo scritti che siamo un enti non profit e l'IVA viene considerato un costo la natura e la qualità del bene che devono essere specificate deve anche essere inserita nella fattura il numero seriale di matricola per identificare il bene che abbiamo acquistato e beh come dicevamo prima per quanto riguarda il prezzario per le opere murarie di tinteggiatura e tutte queste opere di carattere edile diciamo bisognerà fare riferimento al prezzario che sta sul sito del ministero dove è specifica per metro quadro di muratura costa questo e quindi in base ai metri quadri della nostra del nostro locale potremmo stabilire i prezzi il beneficiario dovrà motivare la scelta che ha portato a quei parametri e questo sempre per importi superiori a 5.000 euro per quanto riguarda i tre preventivi li abbiamo ampiamente già detti andiamo a parlare invece di cosa non è ammesso non possono essere ammessi a contributo gli investimenti di mera sostituzione cioè qualcosa che tu già hai e quindi vuol dire che già lo utilizzi per qualcosa quindi non è strettamente correlato al progetto non è una cosa e non puoi quindi sostituirti e farti pagare se tu qua avevi già le sedie le cose o l'acquisto di materiale usato dicevamo ieri l'usato non è mai riconosciuto perché come fai a dimostrare il costo di un usato o comunque la scelta dell'acquirente cioè a cui tu ti sei rivolto se ad esempio ti vende una cosa un tuo fratello o un parente cioè tu li potresti attribuire un prezzo più elevato e poi dovresti dimostrare che su quel bene o quello non ha avuto un altro finanziamento cioè è più facilmente poi un bene nuovo è sicuro che funziona cioè ci sono delle garanzie diciamo tecniche di funzionamento se un bene è usato può darsi che è già uscito dalla garanzia non viene proprio ammesso a finanziamento nell'usato e nel volontariato quindi non oppure gli interessi debitori o gli oneri finanziari questo l'avevamo anche visto ieri o gli interventi e gli acquisti effettuati prima della domanda questo è ovviamente tutti gli interventi devono garantire il principio di trasparenza efficace ed economicità che avevamo visto anche ieri l'intensità dell'aiuto questo è la parte che ci potrebbe più interessare il sostegno sarà concesso nella forma di contributo pari al 50% delle spese quindi il volume massimo dell'investimento potrà essere di 40.000 euro quindi l'aiuto è il 50% di quindi se noi facciamo un investimento di 80.000 ci saranno riconosciuti 40.000 euro quindi per chi vuole iniziare una piccola attività o ha in mente di fare qualche non è male diciamo sempre l'aiuto è concesso nel rispetto del de minimis cioè non bisogna aver avuto già altri cioè un importo elevato nei due anni precedenti per queste azioni sono stati stabiliti questi importi l'azione 1 l'azione 2 l'azione 3 diciamo che questa è l'azione che più vedo per le attività diciamo vostre è importante che il beneficiario come vedevamo ieri che il beneficiario si impegni a non alienare o a mantenere la destinazione d'uso del bene per almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale quindi per 5 anni non puoi vendere o alienare questo bene anche se non ti serve te lo devi tenere lì per alienabilità o mantenimento si intende l'obbligo da parte del beneficiario di non cedere a terzi la proprietà né a distogliergli gli usi del nel caso in cui tu vuoi trasferire la gestione al fine di evitare la restituzione delle somme dovrà rispettare quanto previsto dall'articolo obblighi della persona è obbligata a mantenere per tutta la durata dell'operazione a finanziamento un conto corrente esclusivo dedicato che può essere o bancario o postale dove la GEA che è l'ente finanziatore erogherà i soldi che noi potremmo utilizzare dal conto corrente e comunicare eventualmente qualsiasi variazione di domicilio di conto corrente qualsiasi di cosa e mantenere nei cinque anni successivi le condizioni che hanno portato a quel progetto in graduatoria se noi ci eravamo impegnati a assumere una donna o a mantenere dovremmo cioè tu hai vinto il bando perché hai detto che assumevi un disabile non è che tu puoi vincere il bando e lo licenzi cioè o comunque non lo assumi cioè tu hai vinto il bando per dei criteri di premialità che poi dovresti impegnarti a tenere per almeno cinque anni quindi le condizioni che hanno portato alla tua vincita devi consentire il controllo e le ispezioni da parte del personale per tutta la documentazione gli edifici e cose varie infatti devi accostudire in sicurezza i documenti di giustificativi di spesa per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori vabbè vedete questo anche che vi dicevo ieri a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità e anche il riferimento all'utilizzo del logo quindi se facciamo una ludoteca e poi abbiamo avuto i soldi con questo bando una piccola targhetta in cui ci sarà il logo della regione Puglia eventualmente scritto contributo a valere del programma PSR del 2007 2013 misura a sostegno della creazione dell'impresa perché è una funzione di pubblicità che va fatta obbligatoria quindi dovrebbe essere messa anche sugli acquisti però diciamo basterebbe anche una targhetta da qualche parte non so se anche con bollenti spiriti voi avevate questo obbligo dove l'avete sì vabbè su tutte le cose pubblicitarie ovviamente locandine dovevamo mettere i lughi del progetto proprio che ti davano loro e sulla non so voi avevate una sede una cosa noi avevamo un comodato cioè un un contratto di servizi e no vabbè quindi non dovevamo mettere nulla neanche sulle acquisti a meno che non erano che ne so ne abbiamo fatto tipo una maglietta da distribuire e lì sì lì c'erano i lughi i criteri di selezione del progetto quindi si dà tre punti dell'impresa di fesso famminile chi presenta la domanda quindi tre punti se notate il punteggio massimo se a meno di 40 anni due punti quindi se l'impresa è in forma societaria o a partecipazione prevalente femminile un punto se persone fisiche a fasce deboli della popolazione quale possono essere le donne un punto quindi già con questo diciamo è importante vengono poi in secondo piano quelli che sono la valutazione dei progetti presentati in base alla sostenibilità tecnico-economica del finanziamento cioè che ha due punti perché voi dovete dimostrare anche dopo il periodo che riuscite a essere economicamente autosufficienti la sussistenza degli sblocchi di mercato o l'utilizzo di tecniche eco-compatibili e la salvaguarda dell'incremento dell'occupazione se notate come l'incremento dell'occupazione ha un punteggio più alto perché ovviamente tutte queste misure questi bandi tendono a cercare di occupare il più possibile anche eventualmente l'utilizzo di tecniche eco-compatibili come parlavamo prima dei prodotti a impatto zero o comunque a chilometro zero se facciamo qualcosa che riguarda questi nuovi orientamenti comunque segmenti di mercato sicuramente c'è una valenza più importante specie in agricoltura sono stati molti ad esempio i finanziamenti che hanno dato sul biologico quindi se uno vuole fare qualcosa sul settore biologico oppure sulle energie alternative delle biomasse perché mentre prima finanziavano tutti i pannelli solari adesso siamo nel momento delle biomasse quindi se tu hai qualcosa di agricolo per anche produzioni diciamo con meno utilizzo di concimi tutte quelle cose che possono portare al biologico o anche ad esempio una misura che è andata che sta ancora è stata per la creazione di showroom e quindi attigui alla vostra azienda diciamo di olio e di vino la creazione di uno showroom per la vendita e la pubblicità dove uno poteva venire ad acquistare il vino o l'olio sì però ho visto qui alimentari non parla di vino se no ti parla di prodotti di tessile perché il vino l'olio hanno delle misure già specifiche così come la pesca quindi questo diciamo è più di carattere generale perché queste misure cioè questi argomenti questi settori industriali quali l'alimentare il tessile non sono previsti in altri bandi invece per il vino l'olio pesca hanno proprio dei loro bandi quindi hanno già una bella bella fetta di finanziamenti quindi non esempio anche ci sono molte anche persone che fanno bigiotteria o che vendono nei mercatini che ormai si è diffusa anche questa cosa o cinturini prodotti infatti comunque prevalentemente a mano che potrebbero uscire dal mercatino e aprirsi una piccola attività anche perché qua parla di fabbricazione di bigiotteria o articoli in carta e cartone paglia quindi poi quindi questi sono quelli i criteri di selezione del progetto che considerate che mentre la valutazione del progetto ha un massimo di nove punti diciamo il fatto che siamo donne che siamo inferiore di 40 anni da 6-7 punti quindi diciamo che è quasi il punteggio massimo che possiamo attribuire è di 14 punti e in caso di parità verrà premiato quello che ha un costo totale minore come dicevamo ieri anche perché in questo modo possono finanziare più persone il progetto per essere ammesso in graduatoria deve avere almeno tre punti quindi questo è vabbè nel caso in cui chi presenta la domanda sia una società oltre il 50% deve essere del personale del capitale sociale deve essere sottoscritto da donne o da componenti del consiglio di amministrazioni che siano costituite da donne e che se si tratta di impresa individuale il titolare deve avere meno di 40 anni quindi in questo senso c'è tutta la procedura formale quando viene approvato il bando eventualmente tutta la documentazione che verrà attribuita e la pubblicità dove verrà pubblicato l'atto sono bandi abbastanza brevi nel senso da quando si presenta a quando viene erogato il finanziamento il tempo non si aspetta molto una cosa importante che per qualsiasi tipo per l'intervento è che bisognerà se noi vogliamo ad esempio iniziare con un'attività commerciale oppure aprire una ludoteca se ci sono a livello legale dei titoli che noi dobbiamo avere faccio un esempio aprire un bar occorre il titolo di somministrazione dei bevande alimenti questo titolo deve essere posseduto dal soggetto che presenta la domanda o comunque deve essere nel momento in cui noi la presentiamo dobbiamo averlo quindi bisogna oppure se dobbiamo costruire o ristrutturare qualcosa bisogna verificare se ci danno le autorizzazioni o possiamo fare lo scivolo qualsiasi cosa di natura autorizzativa bisogna essere certi di ottenerla altrimenti poi tu vinci il bando e non puoi fare i lavori perché il proprietario in cui tu hai fitto l'appartamento locale non ti dà la concessione e poi come dicevamo prima bisogna aprire un conto corrente quindi gli interventi ammessi ai beneficiari devono essere conclusi entro 12 mesi quindi abbiamo un anno di tempo per effettuare tutti i pagamenti e per effettuare tutti gli interventi quindi il finanziamento diciamo di 40.000 euro dell'anno che poi parliamo di un progetto come notate anche qui dice che i pagamenti devono essere fatti tramite bonifico bancario ricevuta assegno non trasferibile bollettino non è ammesso il pagamento in contanti eventuali spese effettuate con pagamenti in contanti non potranno essere ammesse quindi in questo caso anche le spese inferiori a 500 euro non accettano vedete la particolarità di ogni bando che venga effettuato il pagamento in contanti la spesa va dimostrata attraverso un rendiconto in cui sono dettagliate l'indiconto quindi in questo caso non ve lo presentano lo dovete fare voi in cui dovrete presentare le fatture e ogni altro documento avente forza di legge vabbè come si fa allora è importante la domanda di pagamento l'importo massimo erogabile sarà comunicato nel momento in cui sapete se avete vinto o meno il provvedimento il bando l'erogazione anche in questo caso vedete è subordinata all'acquisizione di una garanzia bancaria o polizza in questo caso la dobbiamo fare con una qualsiasi assicurazione o banca a favore della GEA che è l'ente erogatore e corrisponde al 110% dell'importo richiesto quindi se noi chiediamo 40.000 vabbè non potremmo mai fare una polizza su 40.000 euro perché non ci daranno mai tutto prima se vediamo quanto ci danno in questo caso come anticipazione penso che danno il 50% è previsto il sistema disponibile sul fine allora deve essere rilasciata da banca o da società assicuratrice vedete devono essere autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni pubblicato sul sito perché molto spesso ultimamente siccome le assicurazioni italiane hanno difficoltà a rilasciare le polizze i nostri assicuratori si stanno rivolgendo ad assicurazioni dei paesi esteri che siccome con l'abbattimento delle barriere noi potremmo anche avere l'assicurazione in Romania e quindi quelli sono autorizzati ad operare anche in Italia però bisogna verificare che questa compagnia assicuratrice rumena sia inserita nel sito perché potrebbe non essere attrezzata accettata diciamo perché una società rumena potrebbe non avere le caratteristiche di quelle basterà che sia inserita nel sito il 110% risponde alla caratteristica che nel momento in cui noi abbiamo avuto un'anticipazione questi progetti sono a cofinanziamento cioè una parte ce la danno loro e una parte ce la dobbiamo mettere noi quindi loro in questo modo si garantiscono anche della parte nostra cioè non solo solitamente la polizia noi la chiediamo sul 50-80% del finanziato cioè quanto ci dà l'ente invece in questo caso lo vogliono anche su quello che dobbiamo mettere noi che poi è una polizza quindi gli importi varieranno in base all'identità del nostro finanziamento su 20.000 euro immagino che la polizza sarà un pochino un po' più alta sugli 800 euro però dipende dal dipende dal tempo questo la dobbiamo fare per almeno 12 mesi è possibile presentare due domande di pagamento sotto forma o di acconto quindi appena iniziamo chiediamo l'acconto dopo la polizza o su stato di avanzamento quindi noi presentiamo le fatture fiscalmente in regola registrate e quedenzate con la liberatoria del fornitore molto spesso quando noi acquistiamo della merce e quindi anche con qualsiasi attrezzatura la paghiamo il fornitore gli enti tipo la regione Puglia la GEA vogliono che firmi una dichiarazione in cui attesta che quella fattura numero del è stata regolarmente pagata cioè nonostante hanno il pagamento l'estratto conto vogliono una certificazione ovviamente se noi abbiamo pagato il fornitore non avrà nessun problema a farci la certificazione del pagamento non è una cosa difficile da ottenere infatti parla proprio di dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice o di altri documenti che hanno valore quindi quali l'estratto conto da cui si vincono i pagamenti quindi state riscontrando molte delle cose comunque che avevamo già detto ieri che sono comunque cose che vengono ad essere a incontrarsi perché quelle sono le caratteristiche per quanto riguarda l'erogazione del saldo il beneficiario dovrà presentare oltre può ovviamente questi progetti come dicevamo prima se tu non vuoi fare la polizza fideussoria e hai una certa flessibilità una certa liquidità puoi fare anche tutte le operazioni con i tuoi soldi al fine lavoro dopo il collaudo l'ente ti ricorderà la parte che avevi vinto nel bando è una procedura che difficilmente fanno lo fanno soltanto delle aziende diciamo che hanno già però si tolgono da eventuali diciamo rogne amministrative di dover fare la polizza di dover presentare il rendiconto perché presentano tutto a saldo quindi alla fine del progetto ti presentano tutta la rendicontazione e ti chiedono l'erogazione del contributo quindi infatti dice per l'erogazione del saldo il beneficiario dovrà presentare la documentazione sempre se ha ottenuto l'acconto se no può andare avanti quindi bisognerà portare la domanda di stato di avanzamento dei lavori e i titoli abilitativi ad esempio se ha fatto delle ristrutturazioni all'interno del locale ha ottenuto il permesso a costruire ha avuto la scia ha avuto tutte le autorizzazioni del comune per fare quei lavori questo per evitare per avere la sicurezza che i lavori siano stati effettuati diciamo in regola con le normative comunali o regionali la contabilità analitica dell'investimento e la documentazione della spesa una copia conforme a di tutti i documenti che sono stati utilizzati per i pagamenti come dicevamo ieri sulle fatture e sugli altri documenti equivalenti dovrà essere riportata spesa di euro 1000 dichiarata per la concessione di aiuti di cui al PSR 2007-2013 programma di sviluppo misura azione azione in questo caso ne avevamo detto tre con l'indicazione dell'azione a cui si riferisce il programma questo nel piccolo ma anche nel grande il timbro con l'azione che abbiamo sostenuto l'importo va va riportato infatti viene proprio fatto un timbro con la parte qua così in modo da poterlo scrivere a penna l'azione tre in questo caso azione uno lo sappiamo già quindi lo possiamo già far mettere nel timbro se non volete fare il timbro basterà scriverlo su tutti i documenti a penna l'autodichiarazione di regolarità contributiva quello che dicevamo ieri il DURC che attesta che la società o l'associazione ha pagato i contributi ai dipendenti perché quello è un reato penale non pagare il contributo del dipendente è penalmente sanzionabile è un autodichiarazione di iscrizione nel registro delle impese in cui dobbiamo dichiarare di non essere in stato di fallimento di concordato o di amministrazione controllata cioè questa è una questione di garanzia che non stiamo chiudendo nel caso in cui stiamo facendo delle ristrutturazioni occorreranno degli elaborati grafici e l'elenco dei documenti presentati quindi al termine la domanda di pagamento del saldo dovrà essere effettuata solo quando risultano ultimati gli interventi alla scadenza dell'anno quando avremo effettuato tutti gli investimenti e tutti gli interventi e avremo presentato tutte le fatture e tutta l'altra documentazione idonea per l'erogazione del saldo questo l'avevamo appena vista l'importo da erogare a saldo sarà effettuato soltanto quando ci sarà un tecnico del Gallo in questo caso il Gallo però anche per altri progetti per i piani di sviluppo regionale verrà un tecnico dell'AGEA direttamente a fare il collaudo dell'opera in cui verrà il personale con persone qualificate eventualmente se abbiamo fatto delle opere di con l'ingegnere che verificherà i lavori e farà un verbale che tutto è stato fatto in regola quindi occorrerà accertare questa e soprattutto sarà accertata e determinata la spesa cioè se noi abbiamo speso realmente quando c'era stato dato e abbiamo quindi utilizzato tutto il contributo pubblico l'importo da erogare è la differenza tra quanto loro già ci hanno dato e quanto noi abbiamo ottenuto nel finanziamento il Gallo potrà chiedere qualsiasi altra documentazione per il pagamento quindi non occorre quindi considerare quelli che sono i controlli quindi potrebbe essere effettuato un controllo amministrativo il loco per verificare che cosa state facendo oppure anche ex post quando voi avete avuto avete finito tutto il progetto prima di avere il saldo potreste avere la occorre considerare che i controlli sono maggiormente concentrati sul fatto che le spese corrispondono a quanto realmente noi abbiamo sostenuto nelle fatture e anche che le opere eventualmente murali e cose sono state fatte con dirigenza e con il rispetto di tutta la normativa i controlli ex post verranno effettuati dopo il pagamento finale e potranno persistere nei cinque anni in cui noi abbiamo detto che saremmo rimasti aperti quindi ovviamente non è che quelli vengono e per forza tu devi stare se non sei un'attività commerciale ma sei una ludoteca in cui ci sono gli orari tu devi stare aperta solo in quegli orari non è che le possono venire come avevamo anche guardato ieri in questo caso non sono ammesse variazioni sostanziali del progetto che potrebbero comportare una variazione del punteggio parliamo però di revisioni o varianti sostanziali ogni richiesta di revisione o varianti può essere preventivamente richiesta se si tratta di piccole cose e la richiesta deve essere quindi sempre collegata da una relazione tecnica e anche in questo caso diciamo oltre a motivare il perché stiamo chiedendo questa bisogna che rispettiamo comunque gli obiettivi del bando a suo tempo presentato comunque le varianti non possono in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso come avevamo più volte detto non sono ammessi adattamenti quando facendo queste variazioni non cambiamo il punteggio di attribuzione perché se tu vai a cambiare il progetto di attribuzione la persona che non ha vinto il progetto e che sta subito sotto di te potrebbe effettuare un ricorso perché tu hai avuto il finanziamento perché hai avuto quel valore possono esserci degli adattamenti che comportano delle variazioni di costo sempre se si tratta di piccole entità infatti c'è tutta una parte sugli adattamenti anche perché molto spesso da quando uno presenta la domanda poi a quando si trova concretamente ad effettuarla cambiano le cose è possibile vedete anche la revoca o la decadenza totale o parziale del contributo perché voi non avete realizzato l'attività oppure hanno fatto dei controlli e hanno visto che voi avevate dichiarato cose che non avete fatto o in tutto diciamo avete detto che avete preso e avete fatto delle opere di ristrutturazione poi vengono e non c'è nulla infatti si parla di revoca o decadenza totale che può essere pronunciato solo a seguito della mancanza osservanza degli obblighi e degli impegni previsti dal oppure quando ad esempio voi non avete rispettato quelle che sono le normative per esempio per avere la dia che viene rilasciata per l'inizio attività o questi oneri di natura comunale per la ristrutturazione degli edifici può anche succedere però non solo che loro vi chiedono il recesso ma anche che voi non volete più svolgere effettuare il progetto in questo caso potete fare una domanda di restituzione del contributo in questo caso non dovete pagare delle penali o soltanto che sono avvenute meno le cause che dovete restituire i soldi questo può avvenire sia in una fase iniziale e sia in una fase successiva cioè nel momento in cui voi avete avuto l'anticipazione avete iniziato a effettuare i lavori restituite però in toto tutto quello che vi è stato dato quindi i lavori che voi avete nel frattempo iniziato a svolgere e utilizzate le vostre disponibilità quindi in questo caso non parliamo proprio di morte del beneficiario perché mi sembra un po' eccessivo anche per quanto riguarda il trasferimento questo è una cosa abbastanza particolare nel senso che se voi volete trasferire l'azienda che avete creato e che quindi è risultata vincitrice del bando potete trasferirlo non a chiunque nel periodo in cui ma dovete trasferirlo a persone che hanno le vostre caratteristiche perché voi avete vinto quel progetto per quei numeri successivamente all'anno diciamo di progetto voi potete trasferirla perché non è che siete tranquillamente vi è una certa flessibilità potete utilizzare meno del vostro contributo quindi bisognerà soltanto in fase di finale che non vi sarà riconosciuto il 100% ma quanto avete realmente utilizzato del finanziamento non vabbè quindi volevo farvi una panoramica di questo bando visto che è ancora aperto potrebbe esservi vi potrebbe interessare comunque lo potete trovare sul sito tranquillamente ho anche le varie attività dei codici a teco di riferimento avete qualche domanda no sì nessuna domanda o state dormendo nel pomeriggio neanche tu vi faccio vedere degli ulteriori esempi diciamo pratici di come potete fare un budget o un rendiconto così c'è una domanda fine corto dai pensando a questo bando no è acceso è verde ok allora supponiamo che io volessi partecipare a questo bando con con un'altra persona allora nel caso io per esempio metta il locale e tutto quanto cioè come possiamo insieme entrare nel nel bando se io ho messo diciamo un valore materiale che ne so e l'altra persona non può mettere altrettanto cioè se io per esempio prevedo la ristrutturazione di un locale che ho l'altra persona come fa ad entrare insieme a me se tu mi dici io prevedo la ristrutturazione del mio locale comunque vabbè potrei anche sollevarti il problema vabbè ma la ristrutturazione a te ti rimane però in questo caso non è questo il caso diciamo tu non devi considerare cioè quello può essere un accordo interno tra te e l'altro partner che nel momento dopo il primo anno di progetto quando voi iniziate a incassare eventuali cioè visto che è un'attività economica iniziate a guadagnarci tu diciamo io potrei mettere per esempio il mio locale e magari considerarlo come come è che lo chiamavamo ieri cofinanziamento sì cofinanziamento ecco cofinanziamento e quindi eventualmente considerare un affitto di quel locale cioè potrei fare una cosa del genere se volessi partecipare per esempio con un'altra persona e sì soltanto che non è che puoi dire io metto un cofinanziamento cioè se tu metti il cofinanziamento e metti il locale all'interno dello stesso progetto lui potrebbe mettere se non ha disponibilità di denaro qualsiasi altra cosa oppure se questa non ha nessun tipo a parte che c'è in questo caso se fate un progetto il 50% deve uscire dalle vostre tasche quindi se tu hai messo il locale può darsi che lui metta un po' di più perché tu hai messo il locale visto che vi limitate la spesa dell'affitto no 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 nel senso che dipende che cosa volete realizzare no vabbè era una domanda cioè siccome il 50% della somma complessiva del progetto è il finanziamento del bando l'altro 50% e lei infatti intendeva questo beh dico cioè è possibile metterlo come beni materiali e non solo come c'è liquidità economica senti perché non c'era scritto non c'era scritto bisogna leggerlo in maniera più attenta comunque per rispondere alla sua domanda lei non è che può dire io ho messo il locale cioè potete quantificare quanto viene il locale e lui mette la differenza in denaro in questo senso se questo poi alla fine a parte che una parte di soldi comunque devono uscire perché dovete sostenere le spese e eventualmente se sostiene tutto lei nella fase di costituzione perché lui ad esempio ha i titoli per poter fare la lidoteca e lei non ce le ha nel momento in cui inizieranno l'attività commerciale quindi inizieranno a guadagnare possono stabilire un accordo tra di loro il primo anno oppure al raggiungimento non so di 5.000 euro i soldi sono miei dopo li mettiamo in società però questo è un accordo diciamo di natura proprio di partenariato non partenariato di soci perché quando uno fa una società si devono accordare loro due se lui non ha i soldi ma c'è i titoli si no non è che lo puoi stabilire io metto i soldi no potremmo rileggere non non c'ho vediamo se lo vediamo ecco c'è uno c'è nera potremmo leggerlo meglio perché io non non l'ho letto in maniera attenta comunque diciamo che in questo caso se tu hai un locale quindi limiti il costo dell'affitto è sicuramente un bene che tu apporti al progetto che deve essere quantificato quindi secondo me in questo caso sì non puoi farti pagare dal tuo soggio però potete fare degli accordi anche perché se lui non metti il titolo tu non lo potresti comunque aprire quindi vi venite incontro quantificate i costi dell'affitto e spese ammissibili andiamo a vederlo il micro sì anche per devono avere una partita IVA il titolo e lei mette il locale ebbè però bisogna è un accordo cioè lento sì bisognerà stabilire tra di loro avete ancora più punteggio in quanto società tal dei tali che presenta come tale il progetto ti sta facendo venire qualche idea di attività commerciale certo che è una biologa che pensa di aprirsi un nido una ludoteca allora il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitali pare al 50% della spesa ammessa il volume massimo è di 40.000 euro l'aiuto è concesso in rispetto del regolamento di applicazione delle disponibilità bisognerebbe leggerlo in maniera comunque sono sicura che se tu hai l'immobile sicuramente va quantificato l'affitto che tu risparmi altrimenti perché me lo devo non trovare che prendo una cosa in fitto se tu mi devi pagare Sì, infatti loro finanziano la ristrutturazione Sì, lo puoi ristrutturare Sì, sicuramente un locale che non è adibito né a vendita né a ludoteca lei se lo dovesse mettere sul mercato comunque lo dovrebbe avere un prezzo più basso quindi non potrà essere quantificato il suo affitto come se già abbiamo fatto tutte le opere di ristrutturazione quindi negli accordi suoi con il suo socio potrà stabilire un prezzo più anche perché poi considerate che successivamente a questo periodo diciamo di finanziamento lei comunque quel locale se l'è tolto dalla sua disponibilità l'ha messo nella società quindi lei dovrà comunque aver riconosciuto se nella spartizione degli utili qualcosa di più rispetto all'altro perché altrimenti lei lo affittava è un vantaggio avere una cosa di proprietà anche se deve essere ristrutturata anche perché visto che la ristrutturazione te la pagano puoi anche effettuare una ristrutturazione lei potrebbe pure pensare di fare la ristrutturazione con le sue disponibilità e apportarla diciamo all'interno del progetto come cofinanziamento cioè quando presenta il piano lei non si fa ristrutturare anche se poi sarebbe diciamo una festeria visto che comunque il bando prevede la ristrutturazione è più facile giustificare delle spese che sono già previste nel bando e non che lei metta spese del personale per 40.000 euro quindi non almeno comunque se hai comunque dei eventuali dubbi se lo leggi ci pensi bene poi mi puoi sempre contattare ti indirizzo alle persone giuste eh? sì sì mi puoi contattare i miei indirizzi se li avete non le seguo io personalmente perché io non faccio la progettazione quindi ti posso indirizzare a colleghi o amici che la fanno anche per il PSR cioè io faccio rendi contazione nel mio ufficio non faccio progettazione quindi ho una mia collega molto in gamba molto fantasiosa che scrive e a me mi dà solo gli incarichi di natura più prettamente vi volevo far vedere visto che comunque abbiamo quasi finito una cosa un po' più complicata abbiamo quali potrebbe essere un progetto che noi abbiamo partecipato e che abbiamo vinto ma ancora non è iniziato la vedete piccolo perché sono miliardi di foglie abbiamo vinto un interreg con l'università del Salento per la realizzazione degli eco-musei e quindi all'interno del budget del format per partecipare a un interreg considerate che quelli che vedete sotto PP2 PP3 sono i partner quindi ci sono 10 partner di progetto noi siamo il PP1 che sarebbe il lead partner e questi sono le attività il worker 1 le azioni chi fa che cosa ovviamente tutto in lingua i costi che cosa vogliamo comprare e questo è diviso quindi mentre noi siamo questi questo diciamo è il secondo partner che fa le attività questo è il terzo che fa le attività e sopra sta scritto per esempio i costi del personale staff cost e poi dettagliato anche per l'anziano cioè se l'attività lo fa un finance manager o un project manager quindi nel momento in cui noi noi abbiamo scritto solo la nostra parte in questo caso c'è stato un accordo preventivo l'idea era comune a tutti però ognuno si è stabilito il suo budget di progetto quindi non è che siamo impazziti a capire loro che personale avevano e quello erano quindi il personale interno personale esterno e poi stavano anche gli altri costi oltre vabbè diciamo che non tutti vedi gli altri costi stavano divisi per travel e costi di viaggio perché gli interreg comprendono più partner più paesi in questo caso noi l'abbiamo vinto con la Grecia quindi l'università di Patrasso e la camera di commercio qualcosa della Grecia i nomi dei partner mi sfuggono e quindi questo è il totale del finanziamento con le varie azioni vedete il partner 2 poi sono sotto gli altri partner partner 4 e cose varie così via vi faccio vi faccio presente che in questo caso noi abbiamo vinto il progetto a parte i tempi molto lunghi di questa cosa però ci hanno chiesto una rimodulazione ci hanno detto di abbassare il budget complessivo in questo caso però è stato fatto in maniera verticale cioè hanno tolto tutti gli importi il 10% sia a noi che ai partner quindi quando c'è una situazione di questo tipo bisognerà anche un pochino rimodulare le azioni perché se ci sono delle azioni che prendevano già un budget un po' più basso e poi tu me l'hai tolto però ovviamente in questo caso non diciamo non ci siamo l'importante era averlo vinto e quindi le varie azioni azione 1 azione 3 sono dettagliate e c'è anche la percentuale di spesa dei vari pacchetti e poi questi sono dettagliati adesso nelle varie attività che sono previste qua cosa fare vedete giornate quante ore e il costo è tutto specificato quindi costo per chilometri o eventualmente la diaria perché si tratta di spese viaggi all'estero quindi era per farvi vedere come possono essere un po' più vi saprò dire come sarà la gestione dei partner soprattutto quelli greci questo invece è stato un progetto che noi non abbiamo vinto che era a gara quindi nel momento in cui noi con tre partner abbiamo deciso le varie attività e quindi abbiamo diviso tra capofila partner 1 e partner 2 divise tra risorse umane e costi vivi che potrebbero essere dall'acquisto per fare una semplificazione e queste erano le attività al totale del bando a cui abbiamo partecipato che era pari a 350.000 euro con risorse umane di 250 e strumentazione di 100 quindi veniva questo importo abbiamo provato a fare un ribasso del quasi 8% però per pochissimo in questo caso ovviamente il gioco del ribasso sarebbe stato effettuato sui costi del personale in questo senso quindi nonostante tutto questo lavoro anche in questo caso avevamo fatto il gant di progetto e le varie attività svolte per fasi questo vi serve anche per proprio una vostra ordine mentale per capire le varie azioni quando devono essere effettuate non lo vedete come una cosa in più da fare perché vi fanno proprio definire le singole attività nei vari mesi e quindi anche le spese quando devono essere sostenute vedete abbiamo fatto il ribasso poi c'erano tutte le le tabelle con le varie attività quindi in questo in questo senso quindi questi sono o progetti che noi abbiamo questo era un un bando del comune di Bari che abbiamo svolto con due partner romani come dicevo ieri che era per una zona svantaggiata del comune che era lo seto e abbiamo dato a 50 nuovi imprenditori o comunque persone che hanno aperto partita iva 25 mila euro a fondo perduto per la creazione dell'iniziativa imprenditoriale anche lì 50 mila euro è stata una scelta diciamo del progetto perché diciamo da un mio punto di vista forse era meglio darne un po' di più o meno invece il progetto prevedeva 50 nuove idee imprenditoriali e quindi il nostro impegno era stata proprio la realizzazione dei business plane cioè veniva diciamo la signora che aveva un'idea o comunque serviva molto per far uscire il lavoro irregolare all'interno e quindi chi faceva ad esempio la sarta a casa o faceva la cuoca che si spostava di casa in casa in questo caso loro avevano già il mestiere avevano la loro idea però non la sapevano ovviamente esporla in un business plane o cose di questo genere e quindi il nostro apporto era stato proprio quello di aiutarli nella realizzazione del piano economico anche perché tutto doveva il progetto era sui 25 mila euro quindi si trattava di piccole attività non pensiamo a l'edicola o cose di questo genere erano e abbiamo fatto quindi una serie di seminari per la creazione di impresa e per lo start up quindi diciamo prettamente un'analisi del contesto in cui la signora voleva aprire l'attività un orientamento e una promozione in questo caso quindi abbiamo dato a ogni allievo che partecipava a questi seminari dei rimborsi per le spese di viaggio vitto diciamo nel tuo caso che tu volevi prendere degli stagisti se non vuoi uscirtene diciamo potresti anche stabilire un importo che ne so ipotizzo 100 euro al mese per al posto di dover specificare i costi la tratta o quanti chilometri hanno fatto capito se si spostano come rimborso come si fa devo fare un foglio di nel momento in cui tu fai il protocollo di intesa con l'università per farti mandare gli stagisti noi tirocinanti no perché gli stagisti cioè avevamo pensato sia ai tirocinanti che agli stagisti però con i tirocinanti è più facile nel senso che fai la convenzione con gli stagisti pensavamo che fosse più complessa questa parte qui cioè come giustificare per un fatto assicurativo se voi avete già il fatto dell'assicurazione eselente già assicurato e cose varie basterà prevedere nella voi avete già probabilmente la convenzione con l'università o il protocollo comunque prevedere un rimborso forfettario che può essere ovviamente tu programmi già prima il tuo budget se hai un budget di 500 euro l'anno di 100 euro ad anno per stagista capito che risponde cioè lo prevedi nella convenzione quindi ti conviene capire quanto è il tuo budget totale e quanti stagisti tirocinanti ti servono perché in quel caso non è che te ne possono mandare e invece per quanto riguarda cioè questo tirocinanti per quanto riguarda gli stagisti cioè per esempio io c'è una persona che è già laureata per dire che mi può servire però si sta ancora formando cioè alla fine a livello pratico perché non ha mai avuto esperienza quindi viene da noi a fare lo stage come come si fa cioè a livello lì devi verificare un po' la normativa sugli stagisti perché con la riforma Fornero secondo me qualcosa è cambiato e non possono essere non pagati quindi se stanno lì e lavorano dovresti prima di diciamo rendi contarti sul progetto e verificare se può stare lì se può stare lì è fattibile questa cosa io adesso la normativa Fornero sulla riforma del lavoro Fornero non la conosco o comunque non conosco la parte è proprio dello stagista perché solitamente noi facciamo un protocollo con l'università quindi diciamo le normative burocratiche se la vede l'università noi ci impegniamo soltanto ad ospitarli presso eventualmente la nostra sede e non è non è prevista nessuna forma di retribuzione ma perché per protocollo a noi è vietata quindi non possiamo neanche riconoscerli un forfait diverso dalle borse di studio che quindi diciamo se abbiamo gli stagisti e i tirocinanti noi non li possiamo pagare quindi devi verificare questa cosa e comunque se all'interno del protocollo della lettera d'intento cioè lo stabilite nel momento in cui lo rendi conti presenti il protocollo ovviamente quando darai i soldi allo stagista barra al tirocinante occorrerà se è un importo minimo quali 100 200 euro e un rimborso forfettario se è un importo che può variare tipo 500 600 euro la devi pagare la ritenuta da conto quindi non sarà il caso quindi anche in questo caso cioè io effettivamente non so se posso dare questo forfait al tirocinante quindi mi rifarò all'università per chiedere se è possibile oppure no oppure te ne vai su internet e ti leggi un po' cosa dice la riforma perché senti a noi noi abbiamo fatto un protocollo col Politecnico ed è stato proprio il prorettore a dirci che non possiamo dare soldi come stagisti come borse di studio cose sì capito è proprio scritto nel nostro protocollo perché non possono accettare questo rimborso forfettario con la nuova riforma quindi bisognerà leggere e approfondirla anche perché il tirocinante solitamente non percepisce nulla perché deve formare cioè anch'io l'ho fatto magari cioè non tutti i diricionanti bisognava formarsi e quindi faceva parte di un percorso universitario però sono cambiate un po' le cose con la riforma del lavoro quindi proprio la che per venirci incontro hanno modificato determinate caratteristiche bisognerà verificare non ve lo so dire comunque nel momento in cui accerti che si può fare inserisci nel protocollo e poi fai firmare il quando percepisci i soldi e questa diciamo formalità voi vi siete trovati a fare tirocini? fai un rimborso porfettario delle spese nel senso che noi in fuoco li possiamo dare se ce lo concedono di darlo non lo diamo se no verranno gratis però prima di chiedere quantifica tu quanto sarebbe ancora poi quelli pensano chissà che importo ma quello sicuramente anche perché nel rispetto dell'altra persona uno dice guarda io ti posso dare questa cifra giusto come contributo simbolico va bene ci ci sono altre domande? dubbi? va bene credo che possiamo interrompere la ripresa grazie